Buongiorno a tutti ragazzi ed eccoci qua ritornati finalmente in questo video di San Fredzo Senghi e oggi siamo tornati qui per parlare finalmente raga finalmente Locatelli è un nuovo calciatore della Juventus raga è stato annunciato poco fa dalla Juventus sulla pagina ufficiale Instagram con un video raga mamma mia raga ma per questa adattativa cosa ci è voluto raga cosa ci è voluto abbiamo passato tutti noi juventini un 2-3 mesi veramente veramente incredibili raga prima di tutto vi voglio salutare bene ragazzi come state spero bene raga mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessun altro video e soprattutto lasciate un like perché a 6 like uscirà un altro video sempre di questo tipo e inoltre scaricate OneFootball raga scaricate OneFootball perché è importante seguite tutte le partite e tutte le notizie di calciomercato in tempo reale raga ed è gratuita la trovate su Google Play, Play Store, vabbè su Android e su App Store per iOS quindi mi raccomando raga scaricate raga non ci credo neanch'io che Locatelli finalmente sia diventato un calciatore della Juventus raga io sinceramente non ci credo ancora raga devo ancora capire perché è successo tutto questo cioè perché questa trattativa è durata così tanto perché raga allora diciamo che il Sassuolo all'inizio non era tanto convinto di vendere Locatelli però poi raga diciamo Locatelli aveva anche una volontà di andarsene andarsene via cambiare area ci sta raga un giovane di 23 anni non può più rimanere sempre nelle squadre di no il Sassuolo non è di basse classifiche anche se il Sassuolo non è di basse classifiche è di media classifica però comunque lui voleva giocare in Europa no voleva giocare in Champions raga lui in Europa quindi eh raga Locatelli dice io voglio andarmene perché la mia avventura vorrebbe ampliarsi anche in Europa quindi vorrei andare a giocare in Europa in qualche squadra europea ma la Juventus aveva soltanto il nodo del del diritto e obbligo di riscatto alla fine hanno trovato l'accordo con l'obbligo fissato a 35 milioni però la Juventus pagherà questi 35 milioni dal 2023 se non sbaglio sì perché i primi due anni sono gratuiti sono gratis Locatelli abbiamo per due anni in prestito gratis poi abbiamo l'obbligo di riscatto quindi dobbiamo obbligatoriamente riscattarlo a 35 milioni raga nel frattempo questi due anni Locatelli cresce secondo me raga Locatelli e la Juventus con Allegri mamma mia raga tanta 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 roba raga veramente cioè uno come Locatelli a mio parere è qualcosa di incredibile nel nostro centrocampo non è ovviamente ancora non è top però raga un altro anno e diventerà uno dei migliori centrocampisti al mondo raga ve lo dico io sicuramente ancora il centrocampo della Juventus non è completo perché comunque sappiamo che ancora mancano i giocatori raga però per ora accontentiamoci di Locatelli anzi un acquisto in tempo di covid così costoso perché raga parliamoci chiaro cioè le società non hanno soldi il Barcellona addirittura ha debiti 500 milioni di debiti all'incirca quindi raga non ci lamentiamo se abbiamo preso solo un acquisto ma in tempi di covid anzi poi se ovviamente il Paisanger Man raga quello è un discorso a parte però diciamo che in Serie A non tutti hanno fatto tutti questi colpi anzi in Serie A hanno fatto forse l'unica che per ora si sta muovendo un po' di più sul mercato in Serie A è l'Inter perché comunque cerca un'altra attaccante e non lo so raga il Milan ha preso Giroud e Magnan quindi a posto quindi soltanto due acquisti alla fine raga cioè ah è Bolloture vabbè tre acquisti alla fine ci può stare la Juventus ha preso Cagliorge e Locatelli mentre altre squadre non hanno ancora comprato nessuno cioè la Roma a Bram il Napoli One Jesus a caso come quarto difensore vabbè e quindi raga ci possiamo più che ci possiamo ritare più che soddisfatti con questi due acquisti Cagliorge che diventerà tra qualche anno uno degli attaccanti migliori al mondo e Locatelli che tra uno o due anni diventerà uno dei migliori al mondo anche lui con Allegri secondo me Locatelli sbarierà non giocherà sempre nella mediana giocherà anche mezzala secondo me raga giocherà come come lo stile di un certo Paul Pogba alla Juventus però ovviamente raga non lo sto paragonando a Pogba perché Locatelli è Locatelli Pogba è Pogba però raga speriamo che ci diventerà come Pogba e niente raga spero che questo video vi sia piaciuto raga io sono contentissimo dell'arrivo di Locatelli finalmente dopo tre mesi raga è giusto che arrivi Locatelli finalmente raga niente io vi saluto noi ci riperchiamo nel prossimo video bella ragazzi